Il popolo pontino non dimentica i terremotati della provincia di Rieti. Ben 13.000 euro sono stati raccolti nel fine settimana dalla Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta Ollus. La somma sarà totalmente devoluta ai comuni del Riatino colpiti dal sisma. I 13.000 euro corrispondono al ricavato degli oltre 1.200 ingressi registrati nel Giardino di Ninfa a Sermoneta tra sabato e domenica. Inoltre, l'Associazione International Friends of Ninfa del Regno Unito, istituita nell'ottobre del 2004, per il solo beneficio del Giardino di Ninfa, ha destinato una somma simbolica di 100 euro che si aggiungeranno a quella incassata dalla Fondazione Roffredo Caetani. Nei prossimi giorni, d'intesa con la Prefettura di Latina, verranno presi contatti con le amministrazioni dei comuni colpiti dal sisma per procedere alla consegna dei fondi raccolti. Nell'occasione, la Fondazione Roffredo Caetani, salvo altre priorità, richiederà che tale somma sia destinata alla realizzazione di un giardino nei luoghi colpiti. La solidarietà nella provincia di Latina non si ferma a Sermoneta. Domenica è stato organizzato un concerto nell'abbazia di Valvisciolo dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica di Latina, con il coro ANA di Latina, che ha consentito la raccolta di ulteriori 1700 euro. La cifra è stata già donata alla Fondazione ANA Ollus Terremotati Centro Italia. Gli organizzatori hanno espresso il desiderio di partecipare con l'importo raccolto alla realizzazione dei giardini proposti dalla Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta Ollus.